In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteosette.it per un nuovo aggiornamento sulle condizioni meteo previste per questo nuovo weekend del mese di febbraio. Giuseppe, prima di entrare più nel dettaglio, vogliamo informare i nostri telespettatori sulla situazione attuale del tempo. Sulla nostra regione è presente un campo di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile prevalentemente soleggiato, una situazione che non subirà modifiche sostanziali nel corso di questo fine settimana, determinando così condizioni meteorologiche gradevoli, soprattutto per quanto riguarda le temperature. Entrando più nello specifico, invece, cosa ci aspetta per quanto riguarda le giornate di domani, sabato 9 e domenica 10 febbraio. Per domani, sabato 9 febbraio, avremo cielo sereno poco nuvoloso ovunque, a parte la formazione di dense foschie e locali banchi di nebbia nelle ore notturne e al primo mattino. Temperature in lieve aumento, venti deboli da ovest e mare poco mossi. Domenica 10 febbraio, cielo poco nuvoloso ovunque, con tendenza a velature nel corso del pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento, con valori massimi al di sopra della media del periodo. Venti deboli da sud-ovest, con tendenza a rinforzare moderatamente dal pomeriggio sera. Mare da poco mossi a mossi. E sulla tendenza della prossima settimana, invece, cosa ci puoi dire? Lunedì è previsto un radicale cambio di circolazione a causa dell'affondo di una depressione a carattere freddo. Avremo un rinforzo del vento da prima da ponente e successivamente dai quadranti settenzionali, con temperature in decisa diminuzione. Ritorneranno le precipitazioni, con nevicate in appennino al di sopra dei mille metri. Nei giorni a seguire, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, a causa dell'ingresso di aria ancora più fredda proveniente dai Balcani. Tra martedì e mercoledì, le temperature si porterebbero ben al di sotto della media del periodo, dando inizio così ad un'ondata di freddo, la quale potrebbe durare per l'intera prossima settimana. Un'evoluzione che andrà monitorata con l'uscita delle prossime elaborazioni modellistiche, per cui invito i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it, dove forniremo tutti i dettagli relativi sia alla distribuzione delle precipitazioni e sia all'entità del freddo in arrivo.